Buongiorno a tutti, ciao, sono Federico Ligabue, commerciale ricambi vicari per la zona di Reggio Emilia e provincia e oggi vorrei parlarvi di due tra le più importanti linee di prodotti VECO, Reman e Nexpro. Per quanto riguarda la prima, Reman si intende la gamma di ricambi revisionati dai VECO che, data la loro alta qualità produttiva, rendono le prestazioni del prodotto finito pressoché pare a quelle di un prodotto appena uscito dalla linea di montaggio, oltre naturalmente a strizzare l'occhio all'ambiente, fatto non trascurabile in questo particolare periodo storico. IVECO certifica la qualità di questa componentistica fino a 24 mesi per quanto riguarda i gruppi motore e i cambi e 12 mesi per la restante linea di prodotti. L'ulteriore vantaggio fondamentale è che il prezzo di vendita è in linea con quello di prodotti di primo impianto che si può trovare dalla concorrenza. La seconda, Nexpro, è nata da due anni con l'obiettivo di ampliare sempre più la gamma dei ricambi di seconda fascia di alta movimentazione per le tre fasce di veicoli leggeri, medie e pesanti. Garanzie e qualità sono in linea con la prima serie, l'Origin, ma rivolgendosi a veicoli più datati si posiziona su una fascia di prezzo più bassa, assolutamente confrontabile con la maggior parte dei prodotti aftermarket che potete trovare da qualsiasi ricambista. Con la grande differenza che questi ultimi non hanno la qualità garantita da Edeco. Per ulteriori informazioni, naturalmente vi invito a contattarci direttamente. Io ho terminato la mia breve spiegazione, vi ringrazio per l'attenzione e continuate a seguirci sui nostri canali ufficiali e in particolare sulla nostra pagina Facebook Camion Ricambi. Un saluto da Federico e dalla squadra Vicarri. Ciao!